Nel 1989 conobbi un amico, un certo il quale lavorava ai cantieri mi disse che aveva ereditato un progetto un nuovo sistema propulsivo per i natanti che un triestino nel 1927 che lavorava all'assemblaggio della Ford T quello che i farm americani utilizzavano negli anni 20 e 30 studiando e pensando concepì un sistema propulsivo basato non più sull'elica che arrivata ad un certo punto attraverso la gravitazione perde la spinta e per cui si annulla il suo effetto ma studiò e capì che le turbine Pelton cioè quelle turbine che noi siamo soliti vedere nelle cascate dove si produce energia elettrica per cui questi cucchiai raccolgono l'acqua in caduta e fanno girare la turbina lui non ha fatto altro che lo speculare cioè ha rovesciato la turbina cattura l'acqua e provoca una spinta perché ad ogni azione corrisponde una reazione varia e contraria raccoglieva l'acqua la spingeva in un tubo centrale che diventava di sostentamento e quindi all'uscita dava un'ulteriore spinta perché ad un certo punto attraverso un sistema di tubi venturi si chiamano cioè quando un tubo di una certa larghezza si allarga improvvisamente crea un vortice che crea una spinta l'inventore chiese all'allora Dulce Benito Mussolini di poter utilizzare la vasca militare e io ho i documenti attraverso i quali si riconosce che lui è stato l'unico civile che ha avuto libero accesso praticamente alla vasca e dove ha provato la sua invenzione ed è stata approvata completamente sembrerebbe che la riuscita di questo brevetto che diciamo portava a oltre 50 nodi la velocità dei mezzi avesse provocato in supermarina cioè nella marina militare italiana e quindi anche attraverso i vari diciamo così fonti di spionaggio si dice che ne fossero venuti a conoscenza anche gli inglesi e per cui lo avrebbero sabotato per cui non se ne fece niente tanto più che quando lui si presentò a Roma per brevettare lo presero per matto e lo cacciarono nonostante avesse le prove di velocità, di staticità di tutte fatte e sottoscritte diciamo nella vasca di La Spezia terminata la guerra lui offrì capì l'importanza che aveva raggiunto l'offrì a Valletta che allora era l'amministratore della Fiat il quale se non vado errato ma sono sicuro perché me lo raccontò il c***o che appogna divenne l'erede gli offrì ben 100 milioni per acquisire il brevetto e lo avrebbe poi sviluppato lui ma l'inventore aveva quella di costruirlo lui cioè era una persona che ci teneva praticamente a portare a compimento lui e a questo punto disse di no a Valletta e da quel momento iniziò ulteriori prove finchè si ammalò e morì prima di morire lasciò tutto a c***o suo grande amico il quale anche lui era impiegato nei cantieri e per cui acquisì e provvide ad un certo punto a brevettarlo io lo brevettai a Udine perché si aveva paura che brevettando la Trieste qualcuno ci potesse visto che era una città di mare sarebbe potuto impossessare attraverso conoscenze varie di quello che è il meccanismo perché con questo brevetto si introduceva qualcosa di rivoluzionario innanzitutto non aveva pescaggio la barca e quindi poteva addirittura entrare sulla sabbia all'ignano non aveva bisogno di pescare poteva girare su se stessa poteva raggiungere diciamo così velocità inimmaginabile perché non c'è la cavitazione non aveva timone che frena aveva una stabilità enorme a questo punto il Potocnik vuole fare il salto di qualità quindi vuole sottoporre alle vasche di prova più grosse del mondo cioè quelle olandesi dove si provano le più grandi navi sia militari anche civili e raccolse diciamo così dei finanziatori che finanziarono l'operazione e quindi per quattro mesi diciamo il prototipo fu studiato nelle vasche di prova in Olanda fu costruito un prototipo non a trazione ma con motore diretto per cui viene un motore interno che può essere elettrico può essere anatta può essere a benzina quello che si vuole che trasmette il movimento alle Pelton cosiddette le quali si mettono in moto catturano l'acqua la spingono alle serre poi il sistema Westinghouse il Westinghouse è stato introdotto diciamo appena prima della guerra ma lui l'aveva già introdotto per il comando per i vari comandi di direzione che non è dato più dal timone ma bensì dalle palle laterali mentre una nave normale ha bisogno di un milio per poter invertire la ruota questa girava su se stessa dentro il porto non era necessario uscire per girare ma se girava su se stessi ci si metteva a posto i raccolti i fondi necessari è stato in Olanda in Olanda ci hanno garantito la stabilità ci hanno garantito la manovrabilità hanno spostato da prua a poppa quello che sono i motori per cui abbiamo il crisma di sacralità per cui è un brevetto che garantisce assolutamente per l'applicazione militare noi abbiamo avuto un primo contatto con la Marina perché ci dissero trattandosi di qualche cosa da definirsi anche strategico perché i primi disegni erano stati fatti per una moto silurante ci è stato, diciamo, suggerito di rivolgerci a Roma al Ministero della Marina